Ciao amici di Gorizia TV, guardate cosa ho trovato, guardate cosa succedeva a Gorizia nel 1994, guardate un po' se vi riconoscete, saranno circa 27 anni fa, guardate un po' il movimento dell'epoca, guardate un po', oggi non più, Gorizia era il 1994, guardate, guardate, guardate che roba, era il 1994, guardate, guardate un po', 1994, guardate, guardate un po', guardate un po', ditemi se oggi potete fare una roba del genere, non credo proprio, guardate, guardate che roba, guardate, guardate che roba, impressionante, adesso è la sera, occhio eh, Italia-Bulgheria, 94, la mamma di mia figlia è bulgara, 94, mia figlia aveva due anni, guardate, guardate un po', guardate, 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 guardate che festa, guardate, guardate che roba, guardate lì, adesso devono anche spingere, quello è bello, guardate, 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 vai, 1994, oggi quel piccolino ha, se mia figlia ha 29, avrà 26 anni quel ragazzino, eccole qua, eccole qua, guardate, guardate un po', 1994, questi ragazzi qua, tutti 26 anni di più, guardate, guardate che roba, oggi non più cari, è finita la pacchia, chiudiamo qua il servizio,